Amici e amiche di Player Inside, bentornati alle uscite del mese, stavolta il mese preso in considerazione è ovviamente aprile 2024 e signori, dall'ultima puntata avete notato una grande novità, ovvero raccogliamo tutti i giochi in uscita ma proprio tutti che se veramente ce ne sfugge qualcuno è per virtù dello spirito santo oppure perché cambiano le date all'ultimo, questo succede ma abbiamo affinato anche grazie ai vostri feedback ulteriormente questa rubrica perché vogliamo che diventi un punto di riferimento, in realtà tanti versi già lo è però diciamo ancora di più e l'abbiamo fatta diventare completa ma anche riassuntiva quindi completa e sintetica allo stesso tempo perché chi vuole può andarsi a vedere nel timestamp semplicemente le parti relative al riepilogo di ogni settimana del mese esatto ovviamente il riepilogo si intende i giochi che interessano più a noi, i nostri most want, i titoli più interessanti quindi avrete sia i migliori giochi in uscita in questo video e basta se volete andarvi a recuperare soltanto i timestamp in cui discutiamo dei migliori giochi in uscita ogni settimana nel mese in corso sia tutti i giochi qualora vogliate vedervi il video per intero signori e direi di cominciare subito e prima uno sponsor divertentissimo che ha fatto Raiden dunque signori, tutti noi lasciamo i nostri dati in giro, dappertutto Raiden, uccodo, perché sempre questi dati in mezzo ai piedi? va bene, la fattispecie intendevo su internet ci iscriviamo a una newsletter o a un servizio che magari ci interessa pure eh però poi d'improvviso sbam, ci ritroviamo ricoperti di mail di spam quando ci va bene Alberto, ecco offerte di lavoro per te ma ce l'ho già un lavoro e non mi chiamo neanche Alberto intendiamo un lavoro vero, coglione oppure peggio, chiamate a pubblicitare al telefono indesideratissime ogni 3x2 ho detto che non mi interessa esatto mamma, non mi interessa, non ci vengo alla festa della zia, non mi va eh, questa non c'entrava niente ed ecco che Incogni, Incogni ci aiuta a mantenere il controllo della nostra privacy e aumentare la consapevolezza sulla raccolta e sulla vendita dei dati all'insaputa di noi utenti consentendo a noi di intervenire per evitarle e quindi che cosa fa Incogni? è uno strumento di cancellazione dei dati personali che invia richieste di rimozione delle informazioni per nostro conto più di 180 data broker, evitando in questo modo che truffatori e aziende disoneste possano profilarci o fare di peggio con le nostre informazioni Raiden ma chi se ne frega, tanto comunque se le prendono lo stesso le informazioni è certo, quindi non facciamo nulla per combatterle, no? Raiden ma così per andare a far rimuovere i dati comunque li do a Incogni sì, ma Incogni raccoglie una quantità minima di informazioni necessarie per poterle cancellare online dai siti indesiderati Raiden ma comunque li posso fare rimuovere anche io stesso singolarmente da ogni newsletter o cosa che mi capita sotto gli occhi certo, sì, ma vedi che bella rottura da cazzo e Incogni è disponibile al nostro link in descrizione con uno sconto del 60% e ragazzi vi prego niente commenti sui miei capelli saranno solo su questo adesso Giorno 2 Mini Shoot Adventures in un ambiente disegnato a mano questo gioco mischia l'esplorazione con l'azione da twin stick shooter includendo grotte profonde e superfici planetarie importante anche potenziare l'astronave e sconfiggere i boss dei dungeon per salvare i propri amici Saviorless, platform action dai Tony Koopi con animazioni realizzate a mano ed uno stile molto particolare con protagonisti due personaggi in fuga dalla maledizione delle isole Smiling Passiamo a giorno 3 con The Seat 2 multiplayer asimmetrico horror realizzato in Unreal Engine 5 in cui si possono vestire i panni del detective come l'innocente o essere il maledetto e cercare di mettere gli altri in trappola Già free to play su Steam arriverà anche su console Asuv, gioco di carte roguelike cooperativo che ci vede protagonisti di una spedizione nel pericoloso deserto Asuv L'obiettivo è salvare il proprio villaggio e l'unico modo è approntare delle strategie adatte insieme ai propri amici Quit Today Action roguelite che vuole mettere enfasi con tono parodistico sulle dinamiche più assurde del lavoro d'ufficio Insomma un gioco folle sulla carta in cui bisogna proteggere a tutti i costi il proprio posto di lavoro in modo non convenzionale Skaramazuzu, nome semplicissimo per un'avventura dai toni misteriosi in cui creature strane e personalità inconsuete affrontano delle avversità risolvendo enigmi in un mondo 2D disegnato a mano in bianco e nero Giorno 4, Beat Slayer, roguelite action musicale in cui la protagonista Mia combatte il ritmo di musica a orde di robot in una berlino alternativa degli anni 90 Freedom Planet 2, action platform indie ispirato ai classici per Sega Mega Drive già uscito su PC e adesso in arrivo su tutte le console Lo stile dei personaggi è quello di eroide cartoni che devono difendere il proprio pianeta Sempre giorno 4, Pathfinder Gallows Spire Survivors uscirà dall'early access per la sua release definitiva E un survival roguelite in cui giocatori in gruppi di tre devono entrare nella torre dell'oscurità per sconfiggere orde di mostri Tengoku Struggle Strayside, visual novel ambientato in un luogo in cui convivono vivi e morti e in cui i peccatori si ritrovano in una eterna lotta tra loro Turbo Golf Racing, una sorta di Rocket League ma con i campi da golf in cui si fa esattamente ciò che avete capito mandare le palle da golf giganti in buca a bordo di un veicolo sfidando i propri amici online Giorno 5, Wuthering Rooms uscirà dall'early access per il lancio definitivo su Steam e console È un'avventura horror in 2.5D con elementi roguelike ambientata in una villa vittoriana generata proceduralmente che cambia ogni notte Sons of Valhalla, avventura gestionale ambientata all'epoca dei vichinghi in cui non bisogna solo combattere ma anche costruire fortezze, radunare guerrieri per partire, effettuare razzie e conquistare l'Inghilterra Giorno 6, Fractals of Destiny uscirà dall'accesso anticipato su Steam È un gioco di ruolo ibrido ovvero con elementi classici come il combattimento a turni ma con altri più action, molto story driven, ambientato nel 5823 in un universo funestato dalla guerra Sempre giorno 6 arriva su Nintendo Switch Last Bloody Snack un'esperienza horror in 2D in cui il protagonista Cody crea con l'immaginazione una minaccia mostruosa in grado di eliminare tutto ciò che odia La sua casa si trasforma in un labirinto pieno di enigmi e passaggi segreti Spirit City lo fa i Sessions, più un tool per concentrarsi che un vero e proprio videogioco serve a creare l'atmosfera giusta per rilassarsi, per aumentare la produttività personalizzando ambienti e personaggi Botany Manor ci mette nei panni di una botanica in pensione che vive in una villa del XIX secolo in Inghilterra Bisogna esplorare la villa e i suoi giardini, scoprire l'habitat migliore per le piante e coltivarle per scoprire le loro misteriose qualità Children of the Sun Shooter tattico in cui vestiamo i panni di una persona che vuole vendicarsi di una setta che gli ha distrutto la vita e lo fa scovando i suoi membri e sparando con il suo fucile controllando la traiettoria di ogni singolo proiettile Gigantic Rampage Edition Una sorta di Definitive Edition del MOBA Hero Shooter 5 contro 5 che include una nuova modalità mappe ed eroi aggiuntivi, supporto al crossplay e miglioramenti al gameplay Senza microtransazioni Prima settimana che passa abbastanza easy Nessun Most Wanted per noi però ci sono tanti indie roguelike che possono interessare a qualcuno di voi Se non avete visto la prima parte quindi vi conviene tornare indietro e guardarli Se ci sono dei roguelike, più che altro sono roguelite Midnight Sì, magari hanno elementi roguelite eccetera eccetera e uno di loro Botany Manor arriva anche su Game Pass Va bene, andiamo avanti e scopriamo poi quali sono i migliori nelle altre interruzioni che faremo a questo video Broken Roads, gioco di ruolo post-apocalittico con un sistema di moralità e un combattimento classico a turni Ambientato in un'Australia desertificata, il gioco punta molto sulle opzioni per sviluppare i propri personaggi con grande libertà senza un sistema di classi Ereban Shadow Legacy, platform stealth frenetico la cui protagonista Ayana utilizza gadget high-tech e sfrutta il potere dell'ombra per salvare l'universo morente Con il potere dell'ombra ci si può muovere agilmente per l'ambiente scalando pareti passando inosservati Space Prison uscirà dall'early access Si tratta di un'avventura in cui bisogna sopravvivere in una prigione nello spazio combattendo contro creature aliene e con scontri a turni così da farsi strada fino alla cima della scala sociale criminale della prigione Sempre il 10 è anche il giorno della full release di The Planet Crafter un gioco basato sul crafting e sulla terraformazione di un pianeta ostile al fine di renderlo adatto alla vita umana Bisogna sopravvivere, esplorare, costruire basi e creare una nuova biosfera Turbo Kid, Metroidvania basato sul film omonimo in cui si esplora anche grazie all'ausilio della propria moto spazio ovviamente anche per il combattimento con armi da potenziare sia in mischia che a distanza Yet Another Fantasy Title è una sorta di GTA nel medioevo fantasy in cui non senza un'alta dose di umorismo bisogna vestire i panni di un furfante che però potrebbe diventare un eroe sconfiggendo draghi e orchi e salvando il regno dagli sviluppatori di Rustler, ex Grand Theft Ours, che seguiva un canovaccio simile Goons Legends of Mayhem frenetico mix tra un brawler e un gioco di hockey a squadre per sfidare gli amici e giocare in co-op sia online che in locale Heroes Hour, già su Steam, arriverà anche su Nintendo Switch si tratta di un caotico strategico a turni su mappe procedurali e uno stile retro battaglie in tempo reale si mescolano ad esplorazione e sviluppo delle città a turni Infection Free Zone ci mette alla guida di cittadini sopravvissuti a una terribile infezione per loro bisogna costruire una base operativa e creare veri e propri insediamenti e adeguate difese per tenere fuori pericolosi infetti è possibile giocare in qualsiasi città del mondo usando dati geografici reali Sempre giorno 11 arriva su console Let's Revolution, puzzle game coloratissimo disegnato e animato a mano con elementi roguelike bisogna ruotare le tessere per svelare i passaggi nascosti al re sconfiggendo i suoi nemici Arriva su console anche Loretta, thriller psicologico la cui trama ruota attorno ad una donna distrutta dall'infedeltà del marito e da fallimenti lavorativi negli anni 40 in quello che diventa un vero e proprio incubo fatto di colpe e crimini Moonglow Bay arriverà finalmente anche su PlayStation e Switch Avventura in voxel art in cui si inizia una nuova vita a Moonglow Bay cercando di integrarsi nella comunità coltivando le varie relazioni pescando e indagando sulle fratture sociali della città Giorno 12, Anomaly Collapse ci mette al comando di una squadra di guerrieri animali molto stilosi con un sistema di combattimento tattico a turni con visuale laterale In questo roguelite non ci si muove molto in favore della strategia da usare in battaglia Jack Holmes, Master of Puppets Survival Horror in prima persona in cui bisogna stare molto attenti a non sprecare proiettili esplorare al meglio pur affrontando pericoli da incubo al fine di indagare su terribili esperimenti su bambini Outer Terror arriverà anche su console In questo action in stile B-movie si sceglie tra dieci personaggi ognuno con le proprie abilità e si affrontano ondate di nemici da giocare soli o in co Giorno 15, Ground arriva sulle altre console, è un survival di Obsidian che ci mette nei panni di uno dei ragazzini protagonisti rimpiccioliti e costretti a farsi strada nel giardino di casa che in proporzione è per loro gigantesco e persino una formica può essere una minaccia Arriva su console anche Perish, FPS roguelite in cui nelle profondità del purgatorio bisogna affrontare pericoli derivanti da creature di varie mitologie da soli o in quattro giocatori in cooperativa Vertical Kingdom, city builder roguelite che utilizza le carte ma in cui, come da tradizione per il genere, bisogna raccogliere risorse e costruire delle città in verticalità, anche nei luoghi più disparati Giorno 16, Biogun, platform action che ci mette nei panni di un vaccino creato dal DNA dei maiali, inoculato all'interno di un cane al fine di salvare tutti i cani dall'estinzione In pratica è un Twistic Shooter platform a scorrimento laterale Europa, avventura ambientata sulla luna terraformata di Giove con protagonista un android alla ricerca di risposte riguardo alla storia dell'ultimo umano in vita Nel gioco si esplora l'ambiente volando e si devono risolvere enigmi nelle rovine della civiltà caduta Harold Alibut, gioco narrativo ambientato in una nave spaziale immerse in un oceano alieno, realizzato con uno stile simile Claymotion Il tema principale è l'amicizia e il protagonista Harold deve esplorare questo mondo retrofuturistico al fine di sentirsi veramente a casa Lifeeater, simulatore di rapimenti in cui vestiamo i panni di un rapitore appunto che deve prima entrare nella vita delle sue vittime intromettendosi poco per volta Per poi compiere il suo crimine al fine di sacrificare le loro vite per salvare il mondo Sempre giorno 16, Planet of Lana arriverà anche sulle altre console Avventura con enigmi che ha ricevuto consensi di critiche pubblico ambientata sul colorato pianeta di Lana con protagonisti una ragazza e il suo fedele amico Ma posso dire che questa settimana è piena di cose interessanti? Posso prima però fare una parentesi? Regà, gli indie sono tutti sperimentali, creativi e poi sono tutti roguelite No, nel senso ci sono molte canovacci Ci sono dei canovacci, anche nell'ambito degli indie stanno sperimentando semmai sulle trame, sullo stile Però sui generi si stanno un po' conformando Diciamo di sì, comunque una cosa che mi interessa è questo Harold Alibut che tra l'altro è anche nel Game Pass Mi interessa perché ha questo stile clay motion particolare, poi è narrativo quindi in generale non ho idea di come si svolgerà il gameplay Però ecco sono molto curiosa Tra l'altro interessante, noi l'abbiamo già prenotata, vabbè per noi la Fallout Special Anthology Che in realtà non è altro che uno scam perché è uguale all'Anthology che era uscita qualche anno fa per PC e adesso però ha più cose Ma è identica, è sempre in Nuke Potevano fare una forma diversa, c'è per uno che colleziona tutte le edizioni Ci sono due Nuke accanto, uno accanto all'altro Va bene E va così Sai che mi interessava anche Yet Another Fantasy Title Quella sorta di GTA nel Medioevo Cioè è una sorta di parodia anche perché Rustler non era fatto affatto male Ci siamo divertiti, abbiamo fatto anche il video sul secondo canale Ci siamo divertiti e Moonglow Bay mi dicevi tu lo hai già provato L'ho già provato tempo fa quando uscì su, mi pare era sul Game Pass È carino però devo dire che l'ho abbandonato abbastanza presto E poi Grounded per chi non l'ha giocato su Xbox e chiaramente arriva su PS5, su Nintendo Switch Ci può stare insomma che possa interessarvi Grounded non è affatto nelle mie corde Io amo Obsidian ma Grounded è un survival È carino però anche questo È survival ragazzi Ride è il survival, non vuoi, sopravviverà No Passiamo al giorno 17 con Rauniot Avventura grafica punta e clicca con grafiche esometriche ambientate in una Finlandia del nord post-apocalittica Pieno di elementi di gameplay classici ed enigmi da risolvere Giorno 18 Arc Runner arriverà anche su console Action roguelite in stile cyberpunk in cui si affrontano livelli sempre più ardui All'interno di una simulazione infettata da un'intelligenza artificiale che ha imprigionato il protagonista Artificer's Tower, una sorta di gestionale in stile Fallout Shelter ma ad ambientazione fantasy in cui bisogna gestire la propria colonia di maghi e difenderla dagli attacchi esterni Final Fantasy XVI The Rising Tide, seconda espansione per Final Fantasy XVI che inizia con una richiesta di aiuto da parte del dominante di Leviatano, un icon scomparso da tempo Il DLC aggiunge nuove aree da esplorare, nuovi avversari, abilità e una modalità di gioco a ondate Nexus 5X, uscirà dall'early access per l'uscita definitiva Gioco sci-fi di strategia e simulazione in cui in sessioni di 60 minuti bisogna sconfiggere gli avversari con combattimenti a turni, multiplayer fino a 8 giocatori Il 18 è anche il giorno in cui partirà l'accesso anticipato di No Rest for the Wicked su PC Gioco di ruolo action dagli sviluppatori di Ori dalla grafica accuratissima L'early access permette di giocare il primo capitolo della campagna, la possibilità di usare il crafting, missioni secondarie ed eventi giornalieri e settimanali Fine dell'accesso anticipato per Scare Ritual che arriverà su PC, PS5, Xbox Series X, FPS survival in co-op per 4 giocatori che è considerato il successore spirituale di Made of Scare I nemici si chiamano i The White Man e non sappiamo se questo sia un buon segno Soul Covenant, action tattico in VR ambientato in una Tokyo distrutta, considerata come l'ultimo baluardo dell'umanità Importante è il concetto della morte e della rinascita, intesi sia come tematiche che come meccaniche di gameplay, multiplayer fino a 4 giocatori Umurangi Generation arriverà su console PlayStation e anche su PlayStation VR Gioco che ci porta ad esplorare un mondo decadente con l'ausilio della macchina fotografica Macchina che può essere migliorata man mano con nuove lenti ed equipaggiamento Giorno 19 Whisker Waters ci mette nei panni di un gatto pescatore Si crea il proprio gatto protagonista e si inizia la propria avventura a base di pesca in cui bisogna anche fare amicizia con gli altri animali e sbloccare il nuovo equipaggiamento Giorno 23 Uden Chronicle 100 Heroes Gioco di ruolo in cui si crea il proprio party di 6 personaggi scegliendo tra più di 100 eroi Si gestisce il proprio villaggio ottenendo risorse per farlo prosperare ma ovviamente non mancano le battaglie a turni Phantom Fury, FPS adrenalinico in stile cinematografico da Rod Movie ambientato negli Stati Uniti che fa affidamento su un enorme arsenale di armi e abilità per sconfiggere i mutanti nemici e non solo Shadow of the Death, parte l'early access di questo action roguelite con visuale dall'alto in cui bisogna affrontare dungeon di un mondo fatto di luce e oscurità al fine di vendicare la propria casa Tales of Kenzera Zao, avventura EA Originals in stile metroidvania in cui scatenando la danza dello sciamano bisogna liberare lo spirito del padre Il gioco nasce dal lutto del padre vissuto dal creatore del gioco il quale voleva trasformare il videogioco nel suo viaggio del dolore Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Wrath of the Mutants, versione espansa del beat'em up a scorrimento arcade del 2017 per 4 giocatori in locale con 3 livelli e 6 boss in più Allora, per me di interessante c'è Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Wrath of the Mutants Beh ragazzi, il most wanted totale è No Rest for the Wicked ovviamente No Rest for the Wicked che però in early access l'abbiamo visto anche in prova insomma insieme sul secondo canale Abbiamo fatto la reaction, l'analisi e il commento, è stato un bel momento in effetti si presenta molto bene Poi di interessante c'è anche per esempio, ecco lo stavo per vedere, anche Final Fantasy XVI di Rising Tide Anche se non ci tiene molto, non ci teniamo molto No, io in generale i DLC li gioco solo proprio dei miei giochi preferiti della vita, è raro che mi metta a giocare i DLC Quindi non credo che, questo lo skipperò, ecco dirò la verità Va bene, sostanzialmente l'early access di No Rest for the Wicked che sembra essere tanta roba E ve ne parleremo anche in fase di early access facendo un'eccezione Perché per i titoli che ci interessano di più, almeno personalmente, se può fare un'eccezione Giorno 24, Odd Sparks, An Automation Adventure RTS single player e co-op in early access ambientato in un particolare mondo fantasy in cui dobbiamo craftare di tutto Giorno 25, Another Crab's Treasure Nei panni del granchio Eremita Krill, Another Crab's Treasure propone un Souls-like in cui il protagonista deve andare alla ricerca del proprio guscio Scoprendo i segreti dietro l'oceano inquinato Saga Emerald Beyond, nuovo capitolo della serie Saga Un GDR con 17 mondi diversi da grattacieli ad habitat verdi lussureggianti pieni di vegetazione 5 archi narrativi unici, 6 personaggi principali e una storia condizionata dalle scelte del giocatore Megaton Musashi W.Wired arriva finalmente in Italia L'action GDR basato sui combattimenti tra mecha di level 5 è ambientato sulla terra del futuro invasa dagli alieni E presenta un gameplay rapido e tante opzioni di personalizzazione Inclusi anche crossover con classici come Mazinga Z Giorno 26, Demon Slayer, Kimetsu Noyaiba, Sweep the Board Party game competitivo fino a 4 giocatori in locale online Il gioco include moltissimi personaggi della serie Demon Slayer Man of Lords, gioco di strategia ad ambientazione medievale che combina profonde meccaniche da city builder e battaglie tattiche su larga scala Sandland, abbiamo già avuto modo di provare il GDR Open World basato sull'opera di Akira Toriyama dei primi anni 2000 Ma la demo non ci ha colpiti Confidiamo nella speranza che Sandland possa colpirci, anche se magari senza saltarci, seppur con meccaniche forse fin troppo collaudate Come la sincronizzazione delle torri e un Open World non particolarmente pieno di cose da fare Stellar Blade in esclusiva PS5 è disponibile da oggi per tutti in versione demo Lo abbiamo già provato e l'impressione è stata positiva Un misto di meccaniche action hack and slash che strizzano l'occhio ai Souls-like più Souls-lite E' una protagonista che ha catalizzato l'attenzione dei più Top Spin 2K25, la nuova simulazione di tennis sviluppata da 2K Games Ritoccato il comparto grafico all'insegna di un maggiore realismo Presenti numerosi campioni attuali e del passato E terreni famosi come Wimbledon Central Court L'Australian Open Road Lever Arena E l'Indian Wells Tennis Presente anche il multiplayer 1v1 e 2v2 in locale online Giorno 28 è El Shaddai Ascension of the Metatron HD Gioco con qualche anno sulle spalle E' uscito infatti nel 2011 e non recepito benissimo dalla critica al lancio Molto meglio dal pubblico Arriva adesso in versione Nintendo Switch in versione HD Remaster Action 2D 3D basato su quattro comandi Attacco, salto, difese e furto di armi Facile da giocare, difficile da padroneggiare Il 30 aprile uscirà per tutte le piattaforme anche quelle mobile Braid Anniversary Edition La riedizione del capolavoro di Jonathan Blow In cui si deve usare il tempo in un contesto platform geniale Arriva su PS5 una delle esclusive più iconiche per Xbox Ovvero Sea of Tears Un titolo che si è espanso tantissimo dal suo lancio avvenuto nel 2018 E che include adesso anche gli episodi The Legend of Monkey Island Imperdibili per tutti gli appassionati The Lullaby of Life Un gioco di enigmi basato sulle note musicali Un rompicapo che si ispira all'origine della vita Nel quale dobbiamo risvegliare esseri dormienti Originale e colorato Allora signori Questa l'ultima settimana di aprile effettivamente Più ricca Più ricca Piena, zeppa, tempestata di titoli interessanti Sicuramente è Most Wanted, Stellar Blade Stellar Blade è un Most Wanted, assolutamente sì Così come è mezzo Most Wanted anche Sandland Che vorremmo approfondire Per me non è un Most Wanted perché quello che ho provato nella demo non mi ha fatto impazzire Anche se devo dire ho visto poi dei trailer che mi convincevano di più perché si vedevano fasi di gameplay diverse però ecco questo deserto così vuoto da quello che ho provato non mi ha fatto impazzire Invece Stellar Blade mi incuriosisce di più Non mi incuriosisce No vabbè questa battuta te la potevi risparmiare se è la solita maschilista Comunque sì Stellar Blade sicuramente anche perché quegli elementi Soul Slight e Soul Slight che effettivamente fanno gola per quanto mi riguarda alla mia persona E poi abbiamo Top Spin 2K25 Sì per chi interessa Allora io ho sempre detto voglio una simulazione di tennis Io ogni anno però le ho snobbate Quest'anno è la volta buona Mi ci metto Giochiamo a Top Spin Mi ci metto ci giochiamo a Top Spin Se no ci gioco con John Louis che pure lui si mette a giocare a giochi di tennis ogni volta con lui A me E ricorriamo sempre a Mario Tennis O mi dai Virtua Tennis o non andiamo d'accordo Ti capisco Ti capisco pure E poi effettivamente Sea of Thieves che arriva su PS5 da tenere d'occhio per I più Per i più Per i più Ed effettivamente questo mese si è concluso così È un mese È un mese ricchissimo È un mese ricchissimo Però non di tanti Most Wanted Almeno da parte nostra ragazzi Quindi Non tantissimi Most Wanted ma ci sarà tanto sicuramente di cui parlare Perché ci sono vari titoli che hanno catalizzato l'attenzione di tanti di voi e anche di noi In realtà non necessariamente Most Wanted ma che poi possono colpirci Perché ricordiamo ogni volta che si parla di Most Wanted non è detto che poi quelli che non sono Most Wanted non lo diventino Poi una volta provati È con tutta questa roba che abbiamo citato è interessante vedere quali sono i giochi che vorreste provare voi Tra quelli che avete visto qui sotto e se non ce n'è nessuno che vi piace l'hashtag è sempre quello Una minchiazza Una minchiazza roguelite questo mese Tutta roba roguelite Signori grazie E alla prossima Ciao 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 Ciao